Allora, lei ha 15 anni, che poster aveva nella sua stanza? Un poster di Gigi Riva. A 15 anni avevo il poster di Berlinguer. Bisogna dirlo, spero non sarebbe nessuno, i Duran Duran. Il poster nella cameretta. Presidente, ma quando aveva 15 anni, il suo poster nella cameretta qual era? Non avevo poster. Mi dispiace deludervi, mi dispiace deludervi... Una parete bianca. Leggevo libri, leggevo libri. E se vuole, John Wisinger, L'autunno del Medioevo. È stato il mio libro informativo. Presidente, ma lei quando aveva 15 anni, che poster aveva nella cameretta? Non avevo poster. Anche perché avendo cinque fratelli, ce ne aveva altri tre più grandi e occupavano loro le cose. Quasi do obbligo per noi, per quella generazione di sinistra, avere un poster su C'è che vale. Perché... No, no, no... Ecco, purtroppo siamo stati interrotti... No, no, va bene. No, no, va bene. Non si preoccupi, signor. Allora, io avevo dietro un poster con delle montagne e un laghetto. Un laghetto di montagna. È romantico. Ma non avevo nessun poster. Sono vecchio per ricordare i cosci, quindi. Cioè, non parte di venti... Ventisette anni. Però durante... E fa andare un ballerno. Come Renzi. Avevo un poster di Santana. Avevo un poster di Santana. Non quello di suo zio Grande Corridore. No, lì c'era una foto sul comodino di mia nonna, invece. Maglia gialla, non in maglia rossa. Un poster che qualcuno ha già scarabocchiato. Dice, vieni in Tunisia. C'è un pare di velluto ed una palma. E tu che sogni di fuggire via.